La trasmissione de Dezember Anseki Stems, la Fondazione UNESCO, connecida o foresta, Turismo della Santa Maria, top o flop, Paraniela do de Monti, Cares le Stoserades. La Fondazione è un rapporto con le istituzioni locali e con la popolazione. Dal 2009 alla UNESCO tutti i Dolomites dal patrimonio naturale dell'umanità. In un anno dal 2010 alla Fondazione Dolomites UNESCO. La Fondazione UNESCO Dolomites a Cortina D'Ampez. Talvez il Comunso nel Corso Italia e l'organizzazione da Ciasa, con tre persone con lavorato ufficio in accordo ad essa. Qua sono tutte le funzioni del segretario generale, qua delle dimissioni da Dalton. E' redlaminunga che i comuni poi immessi avere una funzione importante tra la realizzazione delle finalità della Fondazione UNESCO Dolomites. Io credo che un ruolo più pregnante dei comuni possiamo metterlo in campo nel 2012 effettivamente. Perché quando le reti sono decollate viene da sé che vengano coinvolti per i loro poteri che eserciano sul territorio, ma anche per le loro, diciamo, potenzialità di valorizzazione. Perché quando si parla di promozione turistica o di turismo sostenibile non si può non pensare ai comuni del territorio Dolomites. Inoltre, vediamo bene le prime cose concrete in conto del patrimonio naturale dell'UNESCO. Le vallate, che è toccate dal territorio sotto sconanza, e le grandi toffole lunghe la strada conciugendo questa particolarità. Inoltre, c'è il tema del titolo di prestigio dei Monti Slaurides, perché se si mi deve, perché Treccia capì la portata di questa nomina. Io ho assistito alla candidatura e ho partecipato a tutto il processo di candidatura, e ho visto questo timore che sia un vincolo, no? Io, se posso dire, argomentavo, non è un vincolo formale nel senso. È una responsabilità. Io, a le vege, da metter mangi e le, che cos'è teme, ma io ho capito, io ho detto che è per noi una ricchezza, che è una buona cosa, e che è da una buona cosa, e che è vero che due cani sia una cosa che non potrebbe succedere più per noi, per noi, in Dolomites. Inoltre, 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 inoltre. Inoltre, 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 che sono i programmi della Fondazione UNESCO in conto dei comuns, e che sono una, da i suoi rambi. Il nostro domande è un'economica, che ci sono andati in grande ligno di Bung RE. Inoltre, inoltre, nel prigio di Turistica, ci sono presenti, tutti i ordinativi dell'arteanale ed inoltre in Arbonne. Vedicavo, inoltre, sono da tre scezzi di tutto di economica, che ci sono attività inoltre. Inche l'an quadagnì ne sarà ngan saurì, la crisi generale che in Europa si fa già senti inche a tllo da noi. Le banche sono nostri valori e sono giudici sani. Il contesto finanziario in cui siamo laureati nel momento del Rio, la crisi del Stato italiano si fa senti inche a noi laureati, perché noi siamo porti in pari che il rischio di un trattato finanziario alla perdita del nostro Stato e delle banche di maio di difficoltà. La situazione della liquidità finanziaria romanzerà un'altra critica che lo dì che inche l'an quadagnì sarà il piuttosto Rio da Caffè in presti nuovi. Nostra che il Caffè in Rai fanno provare con tutte le nostre esforze, che ci stanno spettando gli nostri clienti e gli nostri socii, in modo che il progetto poi non realizzano la nostra valore. Un consiglio, un consiglio mio, che l'è subito che è la Sarginheca Bum e la Sarginheca Portomp le domande di credito. E con questo consiglio, questo è bello a scoprire il giù e a tutti i due giorni di buone feste, e un anno nuovo con fortuna, successo e salute sanità. La soggiunca turistica da un anno di inverno, non si mangiano più a pezzotti della calmancialla nei naturali, e che se lascia da un anno più senti per l'entusiasmo dei siori. La prima gran proa di inverno, come tu mangiano a pezzotti, non si non si agita tanto male, anche la prima impressione di responsabili del turismo di Gordena. Cifra definitiva non si mangiano molto, ma di grado ai canoni della neve, ai fulestires un poggio a paccale che si sono benciva. Per questo, i ingegneri qui, in planche da Vierci. Cifra di inverno, in planche da Porta Monti, come vesti in grado di soldi per fare la neve, non puo giù con il ski, da urteggiare qui nella selva, non puo giù con il ski, solo nel centro del urteggiare, il palmar, che già ha, a 1200 metri, qui nasce la pista più alta, a 2000 o 2300 metri, non puo giù con il ski, e che qui a rio è, che a scoprire, che a scoprire, a scoprire, che a scoprire, che a scoprire, e che a scoprire, anche per la sezione da Unì, da scoprire positive. Ma poi, il di più hoti è finito a Maggiunze, come su a CET, che vuole fulestire, a decidere la Maggiunze a Pustedes, poco da un in vacanza, che è per il fin di l'anno di lunga, l'Immaculata, ai 8 di Dezember. E la Regunze ha capito. a capire. che ci sono già sempre. E poi, mi raccomando, che vi, che si vedi che, come li ha corretto, come la situazione, e poi mi chiamò che, che è perfetto. E poi mi chiamò che, che è bello che, che ci deviate, che ci sono sempre sempre alla portata di tutti e in sicurezza che la viene fuori, però potremmo dire che l'e'optimale. Per l'anno della rata PITL, poi non c'è una comunicazione che è unita fatta dai consorci di turismo. In una giovani aveva porto i ingegneri in planche portamonte da Vierge che scevano in Sania. In questo modo bisogna sapere cosa fare. Non c'è un po' di cose che non si può fare, di scuola di televisione, di radio e di internet, ma che si può fare tutti i soldi. In questo modo bisogna fare la migliore soluzione. Inoltre fare più cose sui internet, non ci si può guardare il marketing. Inoltre, per esempio, il Consorzio Alta Badia ha fatto una grande campagna di paesi studiare per tutto il mondo, l'internet e l'Holland. Inoltre, per esempio, la gente si può informare di questo punto e riuscire per la dolomita. Inoltre, l'unico nervo del cielo, non si può sapere cosa c'è. Con la contrada è blanca, non si può dire che non si può pensare ancora. Questa è la psicologia del gesto che viene da la città. Ma cosa sarà la pagina? Con la manovra di Monti unirà la famiglia italiana a pagare di circa 600 e 1.100 euro di più. Avisa al priore di una vacanza. La scelta è stata la scelta che si può pensare che si può pensare che si può pensare che si può pensare a un'erlazione. Noi c'è la ronda per via con le iniziative che accade ad all'ergo un po' di gente, iniziative che può essere in la Hiro, che può essere in grado di altre iniziative. L'unica fa massiva verba, c'è la ronda mantenere i prezzi, il più clavà, già che io sono convinto a qualsiasi punto strada l'Aviglia, anche nella questione del prezzo, c'è la ronda di fare i miei clavà. L'Unione ha declarato nel 2012 un'internazionale dei Consorci. Il 26 Dezember è arrivato la scuola attiva dal Museo Ladin di Castello di Torre. Il più paese, le valore dei ladini, avevano un paese feste all'anno in San Silvestro, in Nannù. L'Escalpone sarà a Vigna Famiglia, paia 1.12 euro in più dal 2012, per dare sane le finanze dal Stato italiano alla do della manovra Monti. Cari quelle smaiute novità, i olacchi se ci affarano le smaiute toserate, che si è disunzata in questa terza reportage. La novità più pozoce che si aspetta dalla croazion della manovra dal Guern Monti è di suddicare la cultura su ogni fabbricaccia i terraci. Cina Zeng era un nome Ici, i lasciati fuori l'abitazione principale, perché era come ne messa a paienia. Dal 2012 era un nome Imu, i ti costarà cera a Duce. Il nostro paio è un esempio di una domanda, di 120 euro in quadrat, per cui si dice che la Cina Zeng era presente, per le disposizioni che la Cina Zeng era una domanda di abitazione privata in paia a Niali, la Cina Zeng va appare circa 800 euro, con la possibilità di dare base alla do di miti, a carico che ha dato 50 euro a MUT, per cui sarà un po' una grande esperanza o un gran costo in più per le famiglie. Niente più delibretti del paio questa cultura saranno i pauri, come sarà Brancetti e Gaiofa per i sui appartamenti, i sui esmaggiati e i sui terraci, una gran migliazione. Per provare a fare l'effetto trappolato con le culte su ogni da Vain, proibere il paio in paio in paio in contanti circa 999,99 euro. Di 5 ore, per il paio è un paio con bancomat, carta di credit, checks o trasferimenti bancari. La notizia è andata per il piccio per la Duce Economica, come per esempio la Fita Chamenez, o la che trec non è una mia c'è moja paracca in adora. Il Consiglio è andata per il mio e calc al vada a sua banca e domanda un posto. Ovviamente, ma se le c'è le fa portante, che la dura un tanto tempo perché al sito tutta poste. Comunque, al do si dice informe, il suo cliente va da un fuori, che al do stoppare un segno o ti fa un bonifico oppure evitare che al venga da l'erche in contanti, perché appunto con contanti in paio al paio blocca la cifra di 999,99 euro. Se questo si treppi da altri ma sarebbe da un fuori della operazione Salva Talia, non è niente da bastare, si potessi l'inni alzare dal 1. ottobre 2012 in doliva, dal 21 al 23%, per due c'è che tommo a etate questa fascia ordinara. Ma in c'è la iva si vendrì da un'arra alzata dal 10 al 12%, e questo è dei grandi conseguenze per l'economia dei nostri valori. Dice Cicra Verda, i albergi, in c'è il transporte con i lift, per esempio, e la ristorazione, all'edan che è preveduta dal 10% di l'eva, passare dal 10 al 12% per l'eva aumentata dal 1 kg di c'è, per l'eva aumentata dal 1 kg di c'è, per salvare le finanze al Stato. Speriamo che il gioio si può iniziare. per l'eva aumentata dal 1 kg di c'è, per l'eva aumentata dal 1 kg di c'è, per l'eva aumentata dal 1 kg di c'è, a sovi. a sovi. per l'eva aumentata dal 1 kg di c'è, per l'eva aumentata dal 1 kg di c'è,